Il titolo quarto dell'inferno e delle cose spaventevoli che vi si incontrarono. Ogni cento anni due Baol saranno nemici, ogni cento anni dovranno combattere finché uno solo resterà. Baolian, libro terzo, versetti 163-165. La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Frick Antoni. Ero pronto a tutto. Quando entrammo nel sotterraneo dove era custodito l'archivio zero, ma quello che mi trovai di fronte era la peggior disgrazia che potessi immaginare, un lecca piedi. Non esiste arma più terribile in dotazione a un regime. Il suo intuito nel giudicare chi conta e chi non conta è infallibile. È difficile corromperlo perché sa chi può dargli di più. Non può essere adulato perché l'adulazione è il suo terreno privilegiato. Non può essere spaventato perché sa chi può proteggerlo. Sa chi sale e scende le scale delle gerarchie. Una sua occhiata di disprezzo è la prova più sicura di una carriera finita. Dietro di lui, alla parete, tre ritratti del gerarca, comiziante, yachtman in famiglia. Davanti a lui su una scrivania ordinatissima decine di giornali scandalistici con notti brave, segreti dal cova, tumori di divi, liposuzioni di dive e soprattutto notizie del palcoscenico mondano. Chi c'era, chi non c'era e perché. Da quella scrivania il leccapiedi ci fissava sicuro di sé. Invaricabile cerbero, tricoturno lappante. Dove volete andare signori? Chiese con voce cerimoniosa. Agli archivi. E chi vi manda? Missione segreta, come ha visto. Possediamo il codice di entrata. Non basta. Per le missioni segrete devo ricevere comunicazioni dal dottor Pelosino. Vi manda il dottor Pelosino? No. Allora mi dispiace signori, ma se non vi manda Pelosino non potete passare, salvo ordini superiori. La missione riguarda la sicurezza interna? Allora se riguarda la sicurezza interna devo avere l'autorizzazione scritta del generale Mazza. Vi manda il generale Mazza? No. Allora sono spiacente signori, ma non posso farvi passare, salvo ordini superiori. Allora telefono ai dirigenti dei servizi speciali. Sei matto? Mi sbigliò sottovoce Alice. Ci scopriranno. So quello che faccio, risposi. Controvoglia, ma a quanto sorpreso della mia sicurezza, Baol, il lecca a piedi telefonò al reparto servizi speciali. Gli rispose con una cortese polifonia di segretarie. Chiese del dottor Gerezze ma era in riunione. Il dottor Cipolla era in auto in una zona montagnosa dove la radiotelefono non riceveva. Il dottor Mazè era uscito da pochi istanti, forse sono ancora in tempo a trovarlo. No, è andato via. Il dottor Alzamendi era andato a controllare i lavori. Il dottor Tubo era andato a portare una busta al dottor Alzamendi. Il dottor Pisello era in giro con i giapponesi. Il dottor Amadei era in bagno con il sangue al naso. Il dottor Bayac stava tenendo sulla testa il dottor Amadei. Seguì un secondo giro di telefonate. Il dottor Gerezze era uscito dalla riunione ed era andato a relazionare sulla riunione. Il dottor Cipolla era prigioniero di un ingorgo di tir e il radiotelefono vi è più non riceveva. Il dottor Mazè era rientrato un attimo ma era subito uscito. Forse facente baffernarlo. No, se ne è già andato. Il dottor Alzamendi, ricevuta la busta del dottor Tubo, ne stava esaminando il delicato contenuto. Il dottor Tubo era in attesa dei risultati di questo esame. Il dottor Pisello era in giro con gli arabi. Il dottor Amadei era sempre in bagno col sangue al naso e si temeva per la sua vita. Il dottor Baic era andato ad avvisare la famiglia Amadei. Allora non trova nessuno? Dissi fingendomi spazientito. E le capie di spalancò le braccia. Mi dispiace ma nessuno può garantire per voi. Dovete andarvene dato che senza ordini superiori. Scusi, lei ha telefonato a tutti ma non al più importante. Il leccapiedi drizzò le orecchie. Di chi parla? Del dottor Altenmayer. Ha quel nome naturalmente inventato? Il leccapiedi impallidi. Veramente, balbettò, so bene che essendo lui il vero capo segreto dei servizi segreti è prudente chiamarlo il meno possibile. Ma, vista l'emergenza, lei sa bene che brutto carattere ha Altenmayer e se sapesse che non l'abbiamo consultato. Ho sentito dire qualcosa a riguardo? Disse il leccapiedi. Una persona di grande valore. Il valore non si discute, dissi. Certo, ma uno è così potente e si può permettere anche alcuni eccessi. Lei sa cosa mi riferisco al caso Fiorillo? Poveraccio, disse Alice. Cosa gli è successo? Si lasciò sfuggire il leccapiedi. Beh, il solito scatto di ira di Altenmayer con un tagliacarte e, tac, Fiorillo inchiodato con la mano sul tavolo e, mentre era l'inchiodato, Altenmayer continuava a sputtargli in faccia. È arrivato il gerarche in persona e non smetteva. Il gerarche è in persona? Gridò il leccapiedi scattando in piedi. Proprio così. Perché si dice, avvicinai la bocca all'orecchio del leccapiedi, che anche il gerarche non abbia paura. Lei conosce quella storia delle segretarie. Oh, ho sentito dire. Altenmayer è un vero maniaco. Le assalto ovunque. Si sposte apposta in ascensore, si nasconde dietro le macchine distributrici del caffè, salta loro addosso mentre stanno alle fotocopiatrici. Escono fogli pieni delle sue manate e di altre impronte che non le dico. Una volta ci ha provato con la segretaria del gerarche in persona. No, sì, è quello che è più grave. Mentre lui si trovava sulle ginocchia del gerarche. Mentre lei si trovava sulle ginocchia del gerarche. Non ha paura di nessuno, disse René la mucca. E si scoprì il torace mostrando vari rattoppi. Le vede queste cicatrici? Io ero la sua guardia del corpo. Ogni volta che gli sparavano contro lui mi sollevava di peso 150 chili e si faceva scudo col mio corpo. Una volta che io non c'ero si fece scudo con la moglie, Crivellata, un vero managero. Mamma mia, gemette il leccapiedi. Mi ricordo quella volta che non gli passarono la telefonata. Basta, 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 implorò il leccapiedi. Allora lo chiama? Conosce il suo numero segreto? No? Non potrebbe chiamarlo lei? Come vuole. Scusi se le volto le spalle. Ma lei conosce sicuramente le norme di sicurezza Altenmayer. Composi? Il numero del bar Apocalipso? Mi rispose Galles. Qua a Bedrosian in missione speciale. Ho il permesso di andare all'inferno? Certo che ce l'hai, rompicoglioni. E anche di creparci dentro, disgraziato ubriacone, lo fai apposta a telefonarmi durante la partita. Misi giù il telefono che ancora strillava. Sentito che caratterino? Dissi. Spero che lei non riferirà al dottor Altenmayer di questi pochi minuti che vi ho fatto aspettare, disse il leccapiedi. Lei non ci ha visto? Noi non l'abbiamo vista, disse Alice. Il leccapiedi si inchinò a più volte e proferì parole di stima e sottomissione mentre ci accompagnava alla porta della zona archivi. Lo salutammo principescamente. Com'è fatto a sapere che non avrebbe trovato nessuno ai servizi speciali, disse Alice mentre ci allontanavamo. Un trucco, Baol? Nessun trucco, disse io. C'è la partita in televisione. Trovammo in un'immensa gabbia di metallo. Il pavimento era costituito da una grata sotto la quale si intravedeva un profondo abisso. Vibrava come se stesse per spaccarsi e dal fondo venivano vento caldo e rumori di grosse macchine. Alcune scale e ponticelli portavano in diverse direzioni, tutti fatti di quella maglia di ferro sottile. Era come camminare su una ragnatela. Alice si inerpicava con sicurezza su per le scalette finché arrivò ad una che improvvisamente scendeva. Non era più larga di mezzo metro e dondolava come fosse agitata da una mano invisibile. Giù di lì non ci vado, disse René. È elastica, come un ponte tibetano, disse Alice. Non cadrà mai, fidatevi di me. Passo dopo passo scendemmo nelle viscere della ragnatela metallica finché ci trovammo di fronte a una porta blindata su cui spiccava il logo degli sponsor dei reparti segretissimi. Gli ultimi dieci archivi e dopo essi lo zero. La porta, riconobbe il codice, si aprì e si richiusa alle nostre spalle. Che cosa ci attendeva? Solo un normale hangar semibuio con piante ornamentali, soprattutto piante grasse data l'alta temperatura. Poi uno alla volta cominciarono ad entrare. Un dragone alato, un drago, un draghetto, un dracunculo, un king kong, uno scarposauro, uno schifomedonte, alcuni grifi di Notre Dame, sei arpie, un ciclope, un sirbone ormiaglio, una anaconda cingolata, un pitone nocciolato, un kraken con tentacoli di 90 metri, un triceratops, uno stegosauro, due siamo suari, quattro gruppi rock heavy metal, gli hell risers, gli hafen slavken bergius, i curva sud, i crevecoeur, un uomo lupo, un uomo cocker, un altro king kong, gli remake, un zara magheddon, una ragosta gigante, un onda anomala, un tartufo presidenziale, un gorilla con prole, nove tonnellate di gelatina verde, un locustone, sedici scheletri danzanti, un du kipo don tang, uno simoro, un opinion maker, un'orchestra mambo di zombie, una portaerei americana, un minotauro, un minomanzo, un centauro a piedi, un centauro in moto, diciannove tra cerberi, ladoni, ghelludi, strigi, empuse, carcinocheiri, tinocefali, aeroconopi e ippomie merci, un refuso, 22 mostri, troppici, oltre il limite del contenuto concettuale, e cioè 16 mostri per enfasi, 5 mostri per iperbole e un mostriciattolo per litote, 6 mostri per dislocazione, salto di senso, 3 mostri metaforici e 3 ironici, un mostro di bravura, un vampiro, un scegli fronspiriprex, un bambino prodigio, un babi baol, una coppa gigante di gelato tropicana, un mammut, un teratologo. Ma quando l'orrida genna, l'infame masnada, l'infernalco acervo, l'orrenda sfilata, la macraba assemblea, la terria ganga, l'atroce raduno, l'oscena con gerie, la sgorbia marmaglia, l'orribil parata, la sconcia adunata, la malefica ciurma, la schifosa accozzaglia, il ributtante con sesso, la satanica con briccola, la riglia con pagnia, la valsana con pagine, il vicido polipao, l'emetic ensemble, la truce cooperativa, il ripugnante corteo, il fetido gruppazzo sembrava aver terminato di moltiplicarsi, si udì un urlo terrificante che non era né di uomo né di bestia né di diesel, il rumore di diecimila diavoli cui viene comunicata la chiusura dell'averno e relativo al licenziamento, e apparve il re dei mostri, era talmente mostruoso che la sua mostruosità era indescrivibile, era alto circa, con una bocca enorme dentro la quale, e dalle zanne gli colava una, mentre i tentacoli mostruosi sul dorso portava, gli artigli delle sue zampe enormi sembravano, un muco mucillaginoso gli riempiva, e la coda simile a, mentre numerosi aculei, e la ferocia che gli si leggeva negli occhi era, e avanzava lanciando un grido paragonabile, e già si stava accingendo con l'orribile proboscide, ah, quando, meraviglioso, dissi io, il mostro si arrestò, digregnando, stupito, il, mai vista una cosa così bella, ripetei, delle, dalle sette bocche veniva ora, un rantolo che, direi, anzi che la perfezione fatta mostro, la coda biloba iniziò nervosamente a, ne avevo sentito parlare, non avrei mai pensato che fosse una tale meraviglia, e di colpo si accucciò sulle, e dalla terza bocca in alto a destra sbuccò un ometto in camice bianco che discese lungo un tentacolo, fino alla coda destra la percorse, evitando con cura gli aculei, e ci venne incontro, davvero le piace, disse con una certa commozione nella voce, altro che, è sicuramente la mia creazione migliore, permette, Geronimo Balser, artigiano di effetti speciali, e lui è Albert, Albert sorrise, per un totale di 15.000 denti, io sono Bedrosian Baole, questi sono la dottoressa Alice e il mio amico Renella Mucca, conoscevo molte delle sue creazioni, ma non questa, come mai non lavora più nello spettacolo? È una lunga storia, disse Balser, se volete ve la racconto, Albert portaci tè e pasticcini. Sì signore, rispose il mostro, preferisce il tè Darjeeling, Orange Pecoy, Jasmine, China Black o Taste of Albert? Cos'è il Taste of Albert? chiesi. Invece di immergere la bustina nell'acqua calda, ci intingò il dito. Dovete scusarlo, disse Balser, per quanto ben programmato resta sempre un po' mostro. Eccovi la storia. Il racconto dei marziani Qualche anno fa fui convocato per un progetto segretissimo. Erano tempi in cui il regime era particolarmente corroso dagli scandali e godeva di scarsa considerazione internazionale. Perciò avevano pensato al progetto alieno, una finta invasione marziana che sarebbe stata respinta dalle nostre forze armate, con evidenti vantaggi pubblicitari e politici. E cioè A. La battaglia contro il comune nemico spaziale avrebbe rinsaldato il morale nazionale e eliminato le tensioni interne. B. La scelta del nostro paese come sede di un'invasione marziana sarebbe stata invidiata dalle altre potenze ben più di un'olimpiade o di un mondiale di calcio. C. La vittoria sulle truppe aliene avrebbe reso popolare il nostro esercito. Fu quindi incaricato di progettare l'astronave e gli alieni, mentre gli esperti avrebbero preparato gli scenari possibili. A. Invasione del polo da parte di alieni che, dotati di alito al fluro carburo, respirando, avrebbero aumentato di smisura il buco nell'ozono e loro eliminazione mediante identifiche avvelenati. B. Invasione spaziale del gran ballo del golf avvenimento mondano dell'anno e attacco di alieni erbivori al green. C. Invasione di alieni virus a forma di zolletta bianca in tutti i caffè del globo e relativa epidemia. Feci il mio lavoro con diligenza. Costruì una bellissima astronave ispirandomi a una medusa. la Fisiobula Danzerina. Costruì poi 49 piccoli marziani color champagne con testa patata e occhi da pesce abissale, deambulanti su due gambe e lunga coda. Quindi, con triplo appoggio, ampia possibilità di movimenti, facile parcheggio. P. Poi feci il capo marziano ispirato al quarto libro della settimana di imbontà di Max Ernst. Ero molto soddisfatto del mio lavoro. Non così i gerarchi. Dissero che quei tuberoidi non erano sufficienti per spaventare la gente. Ci voleva qualcosa di veramente mostruoso. Mi diedero l'ordine di costruire Albert. Distrussero i marziani condannandoli al rogo. Non dimenticherò mai la loro espressione mentre li portavano via. Mi ci sono voluti tre anni per costruire Albert. I microcircuiti del movimento azionano 6.000 fibre muscolari. Cammina, corre, nuota, corteggia, balla, rovescia ancora al tè, come vedete, ma è perfezionabile. Ma dopo tanto lavoro e tanti collaudi, all'improvviso mi comunicarono che non serviva più. Gli studiosi di management statale avevano stabilito che i marziani erano solo al diciottesimo posto nell'inchiesta sulle paure collettive. Molto dietro agli studenti, ai tossici, ai comunisti, agli africani, ai ragni e ai vigili urbani. B. Per quanto Albert fosse orribile, decine di ditte erano già pronte a mettere in vendita il suo popazzo in gomma piuma e Albert sarebbe diventato oggetto di culto 12 ore dopo essere apparso sulla terra. C. Era perciò preferibile che i terrestri continuassero a doniare altri terrestri, con tutti i vantaggi del caso, non ultimo la reciprocità. Così io, Albert e tutte le mie creature fumo rinchiusi qui sotto, perché nessuno sapesse del vecchio progetto. Ci dissero di fare la guardia, ma qua non arriva nessuno che non sia autorizzato dal regime. In dieci anni l'allarme è scattato due volte, una volta per un topo e oggi per voi. Sto qui nel laboratorio e la mia vita scorre monotona e inutile. Non uscirò mai più da qui. Non è mostruoso? Balser si mise a piangere senza ritegno. Albert lo imitò zampillando da numerosissime aperture. Improvvisamente Lometto si scosse e disse «Ma voi, ma voi non sarete per caso dei ribelli?» L'intuizione Baol mi fece rispondere «Ebbene sì, quindi siete qua giù per qualche azione malgaggia e dannosa al regime, alternia nella quale scapperete!» «Se ci riusciamo, sì!» «E se ci riuscite, mi porterete con voi!» «Promesso!» «E cosa volete fare?» «Vogliamo entrare nell'archivio Zero!» Balser sussultò. Albert fuggì, guaendo, come un barboncino. Atarva non aveva fretta. Aspettava. Le gigantesche scansie degli archivi incombevano su di lui come pareti a picco. C'erano migliaia di filmati in quelle scansie, migliaia di nastri registrati e di segreti. Tutte le schede degli uomini del regime e dei loro nemici. Il mondo era lì. Tranne una parte, i segreti inaccessibili. Ciò che in nessun modo poteva venire ricomposto, mutato. Ciò su cui non si poteva mentire. Questo era l'archivio Zero. Forse avrebbe dovuto aspettare ancora molto tempo. Con calma consultò sul biblio-video l'elenco dei filmati Sciama. Come prevedeva, il 6157 era una normale fucilazione di studenti. Quello che lui cercava era altrove, nella numerazione dello zero. Per curiosità si mise a passare in rassegna l'elenco delle biografie. E poiché subito apparve la A, la tentazione fu forte. Sullo schermo brillò il suo nome. Atarva Nathaniel Martino. Nato l'anno del primo pesce. Padre e madre morti in un incidente aereo. Affidato a un istituto di padri telematici, si dimostra allievo eccezionale e si laurea in fisica e matematica col massimo dei voti. Entra nella maggiore azienda nazionale di computeri con l'incarico di studiare sistemi di sicurezza e vaccini contro gli inserimenti fraudolenti. Inventa due linguaggi, il Dorberman e la Lamo. Sposa una sua collega, Robini Arobi. E un matrimonio felice. Ma tre anni dopo, in un attentato, ribelle ai computeri statali, la moglie muore e lui resta ferito e sfigurato. Decide di entrare nei servizi segreti. Come agente provocatore, si infiltra nel tempio Baol della Rana dove impara le tecniche Baol di suggestione, ipnosi e trasformazione. Grazie alla sua abilità di computerista e ai poteri Baol, diventa uno dei migliori compositori di realtà. Giudizio. Elemento valido e utile, ma da tenere sotto sorveglianza, in quanto non è escluso che il suo passato Baol lo abbia eccessivamente individualizzato. Note caratteristiche. Ha il corpo completamente bruciato nell'esplosione dell'attentato e lo copre con indumenti pesanti. Igiene scarsissima. Vive a 6 gradi sotto zero. Ghiotto di latte. Ascolta troppo i Beatles. Onanista. Immagine. Non esce mai dal palazzo, molto temuto dai colleghi. Il fatto che sia stato Baol fa notevolmente vacillare la fama di incorruttibilità dei Baol. Nessuna possibilità di impiego politico o televisiaco per il look miserando. Rifiuta la parrucca. Data prevista fine utilizzazione, 1998. Nota bene. Per Biografia 1 vedi Archivio 0. Atarva sorrise. Aveva ancora otto anni davanti a sé. Che generosità da parte dei ragazzi del regime. Beh, in quei dati non c'era nulla che lui non sapesse che gli altri sapevano. Un solo dubbio. Cosa significava quell'ultima nota?